ciao benvenuti a cazzeggio catabiotrico in questa nuova veste di cazzeggio catabiotrico ci sono due nuovi ospiti sono due ospiti immaginari beh insomma mica tanto immaginari Giselle e Theia sono due alieni attualmente in sosta sulla colonia di Gonor di Marte per studiare lo sviluppo del punto protocollo sulla terra provengono dalla base di prossimità di Capitan B e sono molto cittoni, suscevoli ma in questa puntata di cazzeggio catabiotrico hanno accettato di darci una serie di risposte e fare una bella intervista in esclusiva per tutti gli ascoltatori di cazzeggio catabiotrico allora andiamo subito al punto e incominciamo l'intervista parlando con il nostro amico alieno Egezel la prima domanda è una domanda piuttosto semplice e penso che tutti i nostri ascoltatori del podcast se la staranno facendo ma di preciso su Marte dove è la base aliena di nome Gonor? ci puoi dire dov'è? eccoci perfetto ecco siamo a posto va bene grazie per la risposta ok va bene se non ci puoi dire dove è di preciso la base aliena di Gonor su Marte possiamo farti alcune domande riguardo a come si vive su Marte che cosa fate sulla colonia di Gonor e quant'altro insomma possiamo farti delle domande e sperare di avere qualche risposta ok ottimo allora grazie per aver accettato questa intervista noi oggi siamo su Marte che cazzo parlando con gli ascoltatori italiani ok ah beh beh è già qualche cosa ok va bene e ci puoi dire dove è Gonor cioè non il posto preciso esattamente dov'è ma insomma come è strutturata dove siete insomma qualche informazione sulla sulla vostra colonia marziana ecco se ce ne vuoi parlare? ok ok va bene però mi sembri un po' reticente ci puoi dire dell'altro? sì ma voglio dire altro volevo aggiungere che in loro ci sono certe mini fabbriche da loro robotiche centrali di energia tanti mani in corretto ad uso simbolo e collettivo poi ci sono magazzini non ci sono già ing treating del stress e lo simbolo ma gli spingi giocatori e i misi non non ci sono altri muscoli ma lo ascolto, non ci sono resolute, non ci sono un po' reticente mangiate solo frutta e verdura? no ma siamo onigoli ma la nostra dieta fa un basso consumo di protecente grazie per le esaurienti risposte ma Gonor è il nome della colonia o il nome del pianeta? no ok ho capito quindi la colonia si chiama Gonor ma il pianeta Marte voi come lo chiamate? gonor eccolo, si è ovvio quindi il pianeta si chiama Gonor e la colonia è posta su Gonor e si chiama Gonor mi sembra una cosa più che logica che cosa ci può dire in più sulla colonia di Gonor? la colonia di Gonor ok grazie per la tua disponibilità e per questa intervista e un saluto a tutti gli ascoltatori di questo podcast e ci sentiremo forse più in là con una nuova puntata ciao 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 ciao